E' stato sorpreso dalla polizia, ubriaco al volante, e in auto con lui c'erano tre amici, ma nessuno di loro era sobrio. Tutti sono infatti risultati con un tasso alcolemico superiore al consentito. Non solo, due avevano anche consumato cannabis. Gli agenti di polizia a questo punto hanno dovuto chiamare un quinto amico, negativo all'alcol test, che li ha potuti accompagnare a casa in tutta sicurezza. Così la serata per quattro giovani, tutti con meno di 25 anni, due dei quali neopatentati, è finita con altrettante patenti ritirate. Questo è uno degli episodi che si sono trovati di fronte agli agenti lo scorso fine settimana, durante un servizio notturno volto a contrastare il fenomeno delle cosiddette stragi del sabato sera, causate da chi guida il stato di ebrezza alcolica o alterato dall'uso di sostanze stupefacenti. Numerose le pattuglie della stradale scese in campo, che si sono avvalse della collaborazione del medico e del personale sanitario in servizio presso la questura, così da poter verificare direttamente su strada, utilizzando tamponi salivari anche l'eventuale consumo di droga. I controlli effettuati nell'immediata periferia, retina e lungole direttrici che conducono ai luoghi di svago presenti in provincia hanno interessato 92 persone, 40 delle quali, poiché conducenti, sono state sottoposte a verifica delle condizioni psicofisiche. Sottoposte